Proprio di fronte a quello che era il fortino dell'illegalità e che oggi non esiste più abbiamo realizzato un parco, un parco rimesso a nuovo perché quel parco era stato distrutto negli anni passati prima del nostro arrivo e che invece oggi torna a nuova vita con 16 associazioni di volontariato che opereranno al suo interno per 300 ragazzi dei quartieri più disagiati che potranno svolgere tutte le attività, non soltanto quelle ludiche, ma anche quelle di studio, di approfondimento. In quel quartiere Villa del Fuoco ci sono tanti punti di aggregazione e tante associazioni che operano, spesso viene messo in evidenza qualcosa di negativo ma in quel quartiere c'è una grande vitalità per aiutare le persone che si trovano in difficoltà, coloro che chiedono una mano tesa e il comune è in prima linea con queste attività. Una giornata dunque di feste e di belle prospettive a Pescara, non solo in campo sociale con il Talent Garden di Via Tavo ma anche per quel che riguarda lo stato di salute economica del lento comunale. Con delibera 119 del 2024 la Corte dei Conti attesta il pieno raggiungimento degli obiettivi relativi all'esercizio finanziario del 2023. Dalla situazione di predissesto di 5 anni fa si passa così a una condizione di assenza totale dei debiti con un disavanzo ridotto al 60%, un avanzo di cassa di oltre 20 milioni di euro, una capacità di riscossione delle entrate che dal 18% del 2016 è quasi raddoppiato passando al 32,55% e con i tempi di pagamento e fornitori che da 109 giorni si riduce ad appena 28 giorni. Potremo fare certamente nuove assunzioni senza dover passare necessariamente da Roma, potremo abbassare le tasse e le tariffe, questo è un obiettivo che noi dobbiamo necessariamente cogliere, potremo fare investimenti per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ancora più di quello che stiamo facendo e noi oggi abbiamo 120 milioni di euro di lavori in corso grazie al PNRR, ma grazie alla capacità di mettere in campo opere con finanziamenti regionali, nazionali, europei, senza dover gravare sulle tasche dei cittadini di Pescara, perché di tutti questi lavori i cittadini di Pescara non pagano assolutamente nulla e quindi abbiamo i conti a posto e questo credo sia veramente molto importante per tutti. Grazie a tutti.